Comune esattore il PDL Vallattac, un intervento durissimo dal capogruppo Laura Bordoli, al centro una comunicazione inviata dagli uffici comunali alle scuole paritarie per l'infanzia, dove si chiedono i nomi degli studenti iscritti dal 2007 oggi, oltre ai dati relativi alle famiglie e ai costi di iscrizione. Mi chiedo su indicazione di chi e con quale indirizzo di giunta, accusa Bordoli. Il fatto che il comune partecipi allo sforzo, alla lotta all'evasione, spiega il doveroso, ma che l'amministrazione eserciti funzioni che spettano a guardia di finanza, agenzia delle entrate o equitalia rappresenta un'inutile duplicazione di funzione. Secondo il capogruppo l'operazione rischia di essere artigianale, ideologica, rischio di tensioni sociali, insomma non si possono marchiare come evasori preliminarmente e la tesi quanti hanno scelto le paritarie. Esistono strumenti come il redditometro, quindi niente caccia alle streghe, conclude Bordoli. Vorrei sgombrare subito il campo da ogni pretesto, ha replicato l'assessore al bilancio Giulia Pusterla. Il trattamento è identico sia per gli iscritti alle scuole pubbliche sia per gli iscritti alle paritarie. Abbiamo inoltre atto richiesta quest'ultima evidenzia perché delle pubbliche possediamo già i dati. I controlli aggiunge avvengono nello stesso modo su entrambi i fronti e senza duplicare il lavoro di altri enti. Nessuno mette in discussione la libertà di scelta educativa, conclude, ma nessuno può limitare la lotta all'evasione. Grazie. Grazie.